Legate bene le casse! Non possiamo permetterci di farle cadere in mani sbagliate! Vedremo quanto resister... Vedremo quanto resisteranno i nostri oppositori senza niente con cui sfamarsi. Se vogliono mangiare, dobbiamo accettare l'aiuto a disabonare. Ma com'è possibile che in città qualcuno sostenga ancora la famiglia Medici? Ah, pensare che un tempo li consideravo i miei pari... ...di oveglianza e di giustizia! Dobbiamo solo spezzare le catene degli interfermintosi... ...e avvicinare la salvezza e la guida d'altro! Vedremo quanto resisteranno i nostri oppositori senza niente con cui sfamarsi! Se vogliono mangiare, devono accettare la guida di Savonarola... ...ma com'è possibile che in città qualcuno sostenga ancora la famiglia Medici? Ah, pensare che un tempo li consideravo i miei padroni... ...questa era prima che il Propeta mi aprisse gli occhi... ...periti di stare laggiù in mezz'armi! ...periti di stare laggiù in mezz'armi! ...periti di stare laggiù in mezz'armi! Vedremo quanto resisteranno i nostri oppositori senza niente con cui sfamarsi! No! Questa era prima che il Profeta mi aprisse gli occhi... L'ora ho compreso che il commercio è un male che divide la gente Savonarola, cibuti Che... che cosa ho fatto? Volevi imporre la fede Talvolta la gente deve sentirsi dire cosa pensare Non è mai venuto nulla di buono Benché il mio cuore sia turbato La mia mente è lucida Requiescati in pace Virgine per la terapia Non è venuto nulla di buono Omnipotens Deus Rex regumet Omnium, Gubernator Cuyo spo... Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Disperato di credere... Tutti l'abbiamo. Vedrò al fine compiuta l'opera di mio padre. Requiescat in pace. Non dovete rovinare la nostra opera. Firenze è malata. Dobbiamo curarla. E come? Costringendo la gente a seguire la dottrina di un folle? Non è saggio da parte tua sfidare i potenti. Ebbene, tra poco non lo saranno più. No, non mi prenderai. Savonarola saprà del tuo tradimento. Guardie! Guardie! la gente è d'accordo! Altrimenti non ti seguirebbe così! Largo! Più veloci! Non permettano! Savonarola ci ha avvisati del rischio di dissensi! Ma non pensiamo così violenti! Riflettici unì! Era una vittima. Non è colpa mia. No, hai fatto una scelta. Mi ha stregato. Con quella... cosa? Solo perché gliel'hai permesso. Lo faccio per il popolo. Prequiescati in pace.